Un momento emozionante e atteso. Così Don Alberto Rimbano, nel pomeriggio di ieri, ha definito l'inaugurazione del restauro dei soffitti ripinti del Duomo di Santa Sofia. Dopo ben 11 mesi, sono finalmente state tolte le impalcature per il completamento del restauro, seguito dall'architetto Sergio Martinelli, con lo studio Assi, direttore dei lavori, l'architetto Davide Zagato, responsabile della sicurezza geometra Alessandro Picelli, e all'opera La dita di restauro, Tisato di Verona. È una parte importante dei lavori, quella che è stata fatta, ha commentato il sindaco Luigi Viaro, presente all'evento, ma ci ricordiamo anche del campanile, luoghi sicuramente afferenti alla sfera sacra. I lavori sono iniziati il 18 maggio dello scorso anno e sono finiti pochi giorni fa, ma non si fermano gli interventi alla chiesa.